La scuola pescarese di kickboxing fa bottino pieno anche al criterium Coppa del Presidente di Jesolo. Gli allievi di Riccardo Bergamini si qualificano ai campionati italiani e sognano adesso la chiamata azzurra. Sono molto contento di questi risultati, ha detto il vicepresidente nazionale di FederCombat. Saranno in 4 a maggio a salire sul ring a Jesolo per combattere negli incontri decisivi per i titoli italiani assoluti, dal 19 al 22 maggio al Pala Invent. I qualificati da Pescara, Matteo Patanè nella specialità K1, Alessandro Caputo nella low kick, Carlotta Di Ponzo nella K1 Juniores e Andrea Di Martide anche lui nella K1 Juniores. Sono andati bene anche gli atleti di terza serie, Luigi Arrizza arrivato in finale dopo uno splendido percorso, una vittoria nella categoria per Jacopo Ippolito e l'esordiente Massimo Odorizio, subito vincente nella sua categoria sul tatami.